Traffico in tilt, strade al buio, cittadini appiedati, sospetti sulla legittimità del riequilibrio di bilancio. Un vortice di polemiche si è abbattuto negli ultimi giorni sull'amministrazione Capozzo, a scagliarsi contro il sindaco e il suo entourage non solo singoli cittadini, ma anche esponenti della politica locale, associazioni e sindacati. Tutti concordi nel ritenere che la città di quarto stia vivendo giorni bui. Ed è proprio il buio il primo problema sul quale si soffermano i sindacati CISL e SPCGL, preoccupati per l'incolumità dei cittadini, che devono fare i conti con strade completamente prive di illuminazione ormai da diversi mesi ed aree transennate non segnalate in alcun modo. È il caso ad esempio di Via Marconi, dove le transenne che delimitano l'area perimetrale del vecchio cinema sono sprovviste di qualunque segnale luminoso che le renda visibili. La scarsa illuminazione pubblica preoccupa anche gli attivisti del Meetup 4.0, che hanno inoltrato un esposto al prefetto di Napoli nel quale denunciano lo stato di stallo in cui versa l'amministrazione e quelli che a loro dire sono i discutibili criteri di priorità nelle scelte della destinazione dei fondi pubblici. Per denunciare la carenza ed uso un eufemismo dell'illuminazione, cioè praticamente noi abbiamo fatto un esposto al prefetto non solo illustrando le strade per iscritto, ma legando materiale fotografico. Ho 32 fotografie corrispondenti a 15-16 strade e in quelle strade dove insiste quel buio, pesto, può succedere di tutto, quindi i cittadini si sentono minacciati nella loro sicurezza. La critica che io faccio a questa amministrazione è che non c'è programmazione, allora le cose si programmano prima. Tu sai che ci sono in cantiere questi lavori, fai una variazione al piano traffico e decidi prima di fare certe cose. Io ho sentito una dichiarazione del sindaco che dice che proporrà alle ditte di lavorare pure di notte. Ma scusate, questa cosa non si poteva pensare prima, prima di far succedere questo caos. La tensostruttura, ne approfitto, da quanti mesi è finita? La programmazione per l'utilizzo deve essere fatta prima, è questo che manca. Vi è poi la questione relativa al trasporto pubblico locale che si trascina da mesi. Lunedì scorso l'EAV avrebbe dovuto consegnare alla città 23 mezzi che avrebbero consentito di far ripartire il servizio. Ma la cerimonia di consegna è slittata a causa, sembrerebbe, di un evento imprevisto indipendente dalla volontà del comune e dell'azienda di trasporti. Ma a questo si aggiungerebbero, secondo i sindacati, altri ritardi. Mancherebbero infatti ancora i ticket da un euro presso i rivenditori autorizzati e le tabelle alle fermate dei bus. Ancora non c'è una planimetria dei tragitti che effettueranno i mezzi e per giunto è il comune, sprovvisto di segnali di località e fine località che indicano i confini della città. L'ultimo affondo è firmato dall'Associazione Politica Progetto Flegreo e riguarda l'approvazione del riequilibrio di bilancio che si voterà nel prossimo Consiglio Comunale. L'Associazione mette in guardia i consiglieri dall'approvare tale documento che, a detta degli attivisti, violerebbe ogni principio contabile e amministrativo. Secondo Progetto Flegreo, con questo documento si starebbe tentando di coprire il disequilibrio economico pari ad alcuni milioni di euro riportando impropriamente entrate straordinarie, probabilmente non attendibili, per coprire spese ordinarie. Inoltre, si legge nel comunicato del Movimento Politico, le previsioni di maggiore entrata derivanti dal LIMU e dal recupero di evasione non sono supportate da nessun documento che possa rendere veritiera tale previsione. Progetto Flegreo ritiene che tale manovra di riequilibrio presenti dunque un profilo di illegittimità in quanto viola le norme che regolamentano lo stesso piano. Il comunicato si chiude con un monito ai membri del Consiglio Comunale, chi approva tale documento si rende responsabile verso la città e siamo certi anche verso gli organi preposti che non possono mancare di intervenire dopo le nostre osservazioni pubbliche alla città.